Dicchiato se vuol dire che cos'è, a una certa età che la si può anche non dire, a questi ragazzi continuare a fare sport? Perché deve diventare una passione, non ho un obbligo, deve piacere, deve piacere uno fare uno sport, o anche due, io l'ho fatto anche due insieme, perché proseguire su quella strada fa bene a tutto, all'intelligenza e al fisico. Bene, bravo di noi!